Musica Visita ad Augusta del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta che è atterata con un elicottero all'interno del Comando di Mare Sicilia dove a diattenderla c'era il picchetto d'onore e il comandante della base Andrea Cottini poi in auto la rappresentante del Governo si è spostata alla banchina Tullio Marcon dove dopo aver visitato il vicino Arsenale ha incontrato il personale e i sindacati nella sala dipartimentale successivamente è ripartita in auto per la base di Terra Vecchia dove ha ripreso un elicottero dove ha ripreso un elicottero per raggiungere Comiso presenti tra gli altri il prefetto di Seracusa Luigi Pizzi il sindaco di Augusta Cettino Di Pietro e il senatore Pino Pisani non invitata la stampa cheppure avrebbe voluto fare qualche domanda sul futuro dell'arsenale di Augusta o sulla vicenda della smilitarizzazione di Puntaizzo Sono stati finanziati dalle dirigenti generali dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro due cantieri di servizio per il comune di Mililli per 22 lavoratori i due progetti si occuperanno di taglio erba e verde pubblico per oltre 22.000 euro e l'altro di pulizia delle aree comunali per l'ammontare complessivo di oltre 19.000 euro lo comunicano Vincenzo Vinciullo e il consigliere comunale di Mililli Salvo Cannata i finanziamenti sono frutto della legge regionale 17 marzo 2016 legge di stabilità regionale che prevedeva l'istituzione di cantieri di servizio in favore dei comuni dell'isola che non avevano potuto fruire del finanziamento previsto nel 2014 per esaurimento fondi Di questa legge ha ricordato il presidente merito della commissione bilancio Vincenzo Vinciullo sono stato il relatore oltre che il presentatore dell'emendamento che ha stanziato le somme dal vecchio Parlamento siciliano hanno concluso Vinciullo e Cannata arriva un'altra risposta positiva per il nostro territorio ed in questo caso per il comune di Mililli dove 22 disoccupati per tre mesi potranno trovare un'occupazione nell'ambito dei finanziamenti previsti per il contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale Onorevole Maria Marciana Francofonte e allora ha visto che tipicità che c'è in questo paese Questo è l'oro di Francofonte? Sì assolutamente a Francofonte c'è un tesoro inestimabile e io aggiungerei pure completamente non inespresso cioè espresso in parte Quindi è un tesoro sicuramente che oggi viene tutelato grazie al riconoscimento dell'arancia rossa di Sicilia però è anche vero che ha bisogno di una maggiore promozione quindi di una maggiore valorizzazione e su questo credo che bisogna fare un grande lavoro sia quindi come Parlamento che come Governo Io mi impegno qui in prima persona appunto ad intraprendere questo percorso perché si tratta di un frutto davvero unico Noi sappiamo che tanti anni fa anche il professore Veronesi ha pubblicizzato l'arancio di Francofonte dicendo che è l'arancio della salute serve anche contro il cancro Sì infatti una particolarità dell'arancio rossa tarocco di Francofonte anche che ha molta più vitamina C rispetto alle altre arance quindi non solo per quanto riguarda l'aspetto si presenta diversamente perché ha quella tonalità un po' rossa rossastra oppure il gusto che è molto dolce ma ha anche un contenuto di vitamina C e quindi è anche un antianemico perché la vitamina C aiuta a trattenere il ferro che ne fa appunto un prodotto davvero unico anche dal punto di vista della salute oltre che dal punto di vista del gusto e nutrizionale che poi noi sappiamo che con le arance possiamo fare dolci possiamo fare marmellate possiamo fare tante cose Sì infatti ha una versatilità in cucina enorme io voglio ricordare ad esempio un piatto tipico tra l'altro della nostra cucina siciliana è l'insalata d'arancia che si fa con le cipolle, con le olive e poi sì con l'arancia cosa che ad esempio magari in altri posti viene utilizzata solo come frutta invece qui in Sicilia viene anche onorata in questo modo l'arancia come quindi contorno oltre poi sì nei dolci e magnifica o comunque anche negli antipasti assieme al pesce Il comune di Melilli ha già messo in campo tutte le disposizioni possibili sebbene parte della popolazione non voglia adeguarsi per quanto riguarda la differenziata da oggi infatti a Melilli inizieranno ad essere distribuiti carrellati appositi nei condomini e a seguire i mastelli per il porta a porta inoltre verranno incrementate le isole ecologiche da ricordare le oltre mille utenze a Melilli e Città Giardino che usufruiscono già delle porta a porta facciamo squadra segnalando ed educando chi non differenzia ma soprattutto chi è colpevole di abbandono dei rifiuti afferma il sindaco di Melilli Giuseppe Carta Il comune di Melilli e i suoi amministratori infatti non hanno mai messo in busta paca l'addizionale comunale gravando sulle tasche dei cittadini ma se la soglia non toccherà il 65% sarà la regione a metterci le mani in tasca basta crederci differenziamo con criterio controllando chi non differenze e segnalando agli enti competenti conclude il sindaco di Melilli Giuseppe Carta Grazie a tutti Grazie a tutti.